Facciamo i ravioli Giovanni Rami spiccia cada Partiamo dalle dosi 100 grammi di farina di simola e un uovo per persona Ma dato che le uova non sono tutte uguali e manco la farina Partiamo con 180 grammi di farina e poi ne aggiungiamo se occorre 180 perché sto facendo pasta per 2 ovviamente Il sale dell'impasto non si mette Mettiamo le mani in pasta Come si fa a capire se la farina è poca? Ecco come si fa Non si forma la palla Perché è troppo umido quindi aggiungiamo la farina mancante Sempre poco per volta L'impasto non deve essere per nulla appiccicoso Non stiamo facendo la pizza Non deve essere nemmeno secco Se no poi si spacca Una volta che si forma la palla bisogna impassare per 10 minuti Ed è molto importante perché è così che l'impasto diventerà molto morbido Se sbagli l'impasto viene troppo secco Aggiungici un pochino d'acqua Non buttare via tutto Andrà meglio la prossima volta Che polle La consistenza dell'impasto varia a seconda della temperatura Non è che varia come la limitazione della pizza Però può essere più dura e più morbida Invenne più duro La chiudiamo con la pellicola E la facciamo riposare per 30 minuti La pellicola non farà formare le crepe sopra E durante il riposo l'impasto diventerà più profumato E poi lo hai stressato Lascialo un attimo calmo Nel frattempo prepariamo il ripieno Con Giorgio togliamo la buccia a un limone Ma anche a due Ricotta nel mio caso di bufala Se la ricotta è sciapa Se si mette un po' di sale Con la bufala non serve Un po' di pepe però sì Non bisogna aggiungere latte Non bisogna aggiungere acqua L'impasto deve essere bello solido Dopo il riposo l'impasto sarà ancora più morbido Più profumato Ora lo dividiamo in due parti Due parti più o meno uguali L'altra ritorna nella pellicola Consiglio di dividere l'impasto in tante parti Quante sono le persone che mangiano Ma per una questione di comodità Sicuri di non fare sfoglie chilometriche Così E sono più facili da lavorare Macchina della pasta Ognuno ha la sua Non posso consigliarmi uno spessore Perché ognuna è diversa Si passa dal buco più largo Per la prima volta Facciamo passare più volte l'impasto Ripiegandolo su se stesso Finché otteniamo un quadrato Un rettangolo Qualcosa di uniforme A questo punto Alziamo un numerino per volta E la facciamo diventare Sempre più sottile Importante Non bisogna toccare la sfoglia Con la punta delle dita Perché si potrebbe bucare Quindi dorso della mano Sia nell'entrata Che in qualche modo Nell'uscita Certo Essere di snum Potrebbe aiutare Ecco la nostra sfoglia Che dobbiamo appoggiare Su pan grattato Farina di semola No farina 00 Perché se no Se la ciuccia Io uso pan grattato Perché mi costa di meno Tu usa quello che vuoi Se hai la semola Che costa poco Usa la semola Faccio anche la seconda sfoglia E poi ci occupiamo Del ripieno Piega a metà Una delle sfoglie E fai un segnetto Riapri Tac Qui c'è il segnetto Da questa parte Metteremo il ripieno E poi questa la piegheremo Su se stessa Pallette più o meno Tutte uguali Ben distanziate Sia dai bordi Che tra loro Tac Con le dita Pigia intorno A tutte le pallette Poi taglia pizza Tac Se il raviolo Tenuto ha troppi bordi Glieli tagliamo Così Se poi ne hai voglia Puoi fare così Così diventano più carini Per tutti i lati Dopo tutto quel lavoro Questa cosa in forme Diventerà così Per la cronaca Il lavoro con la forchettina È sì una cosa estetica Ma serve anche A far chiudere meglio Il raviolo Così di sicuro Non si apre nell'acqua I ravioli Mettili sul tavolo Sempre infarinato O con pan grattato Gli scarti Ovviamente Non si buttano Se c'hai Non stare a galla Quindi ogni tanto Diamo di una girata Mi vogliono circa 3-4 minuti Assaggia Per saperlo Consiglio Assaggia Però 3 minuti Di cottura Sono sufficienti Perché poi Si cuoceranno ancora Durante il riposo Nel sugo E l'impiattamento E pronti Eccone uno E E E Altro che Giovanni rana Grazie